e ciao a tutti ragazzi bentornati in questo nuovissimo inizio da con rete ragazzi oggi siamo su brawl stars e ragazzi ovviamente io ve l'ho portato perché ovviamente io lo porto e per fatto che ragazzi finalmente e dico finalmente ci ho fatta da fare un nuovo record cioè sono arrivato alla undicesima ricompensa ho aperto la megacassa non c'era un bel niente niente ora ragazzi andiamo un po' infatti ragazzi se andiamo a vedere la stazione precedente sono arrivato al settimo ora sto al decimo quindi ragazzi cercherò di fare altre partite di completare le missioni ma più che altro ragazzi ho di completare le missioni perché sono molto meglio no cioè se tu stai sempre sul fatto che devi vincere c'è questo problema che non ci farà mai a farlo questa missione quindi ragazzi ce l'andiamo a fare questa sconfiggi 24 nemici con tara ma raga ma che cazzo che la posso sconfiggere 24 nemici cioè è impossibilissimo io ragazzi voglio provare aspetta ma c'è ah no è questa andremo ad usare corvo in questa missione ragazzi voglio vincere allora la missione era infatti di ieri la missione è ragazzi fare più danni possibili nel senso arrivare a 20.000 danni e con corvo ci si può arrivare forse perché corvo già lascia un po' di danni ecco quello pure forse sta facendo sta missione attenzione mortacci tua mi stava a mirare mi stava a mirare ok quello mi stava a mirare quindi ragazzi attenzione perché qui è proprio casino eh casino proprio casino no attenzione attenzione no 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 eh non state feri però no no perché l'avevo meno abbassata attenzione lì che c'è tanta gente io non volevo dirvi però è così c'è tanta gente l'è morto ok mi devo almeno curarmi perché ragazzi sennò qui è un casino perché sì attenzione a quei due ragazzi fanno un casino non dobbiamo un casino ecco ragazzi la super no mamma mia ragazzi ma che ho fatto mamma mia mamma mia e ragazzi mamma mia ragazzi credevamo di perderla ma infatti l'abbiamo appena vinta mamma mia ragazzi veramente mamma mia mamma mia ragazzi ma veramente ne abbiamo fatto ragazzi 25 no ragazzi non dobbiamo farne 20.000 200.000 di danni cioè ragazzi mamma mia siamo a 176 danni 176.000 danni non vi dico 22 perché vabbè potete anche leggerlo è inutile ragazzi andiamoci a farne un'altra però non sembra con la stessa squadra perché a volte ho una sfiga totale sì quando gioco con gli stessi giocatori perdo però ragazzi se finisco sta cosa e me ne da 500 e mortacci se non la finisco io la finisco e con molto volentieri aspettate che ho anche un nuovo ah no il gadget di corvo io non ce l'ho ancora dovevo non so e non so boh non mi ricordo manco cosa faceva il gadget di corvo poi la sua nuova cosa cioè la sua nuova abilità ragazzi l'ho sbloccata l'importante non è vincere è avere 500 ecco mamma mia ragazzi allora non so se quello fa danni quando usa la super però se lo fa danni è un po' meglio perché cioè ragazzi veramente è una rottura è una rottura non so scherzare è vero ovviamente ragazzi che ci va proprio non si vuole una dente no 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 ricarica a me la mia la multa l'ulta ricarica no no raga non mi ricarica ulti mamma mia raga che dove si persa no non c'ho i colpi attenzione che qui no ma perché la tira no perché lo voglio fare sta lì allora ok 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 no ma che no la mia la multa è vero perché bene c'è la sta ulti che si è ricaricata anche automaticamente se fa danni fa anche di più velocemente in senso che è molto utile la cosa è molto veloce ed è per questo che prenderla è un po' difficile però se non fosse per quello forse lo avrebbero preso chi lo sa mamma mia raga ma questo è proprio non c'è niente più la città no che è successo no raga veramente no è uno scherzo dai ma perché vabbè raga abbiamo finito quindi ora ragazzi andiamo a vincere cioè basta ora ci andiamo a vincere queste partite non è che ora solo perché ora hanno visto ma noi non facevamo niente quindi abbiamo proprio due casse capito due casse perché infatti mi ricordo avevo due casse poi ragazzi le gemme e i soldi non è che ti danno così facilmente cioè mi pare che ti danno ogni volta 50 cioè ragazzi 50 non sono due che sono veramente tante cioè una cassa te ne dà veramente pochissime a volte quindi ovviamente non te le posso dare sempre anche le gemme cioè ora sto a 41 tra un po' a 51 quindi per dire ragazzi vabbè facciamoci una ultima partita ragazzi ragazzi sono arrivato a bologna mi mancano sette squadre da provare cioè la maglia delle sette squadre e non solo ragazzi ho scoperto una cosa la bruti la squadra bruti che in realtà non è la bruti infatti ha detto ma non è la breccia però è cambiata un sacco ho detto no non è più la breccia forse ho detto no non è la breccia infatti è la breccia nel senso che è la squadra il fatto era che ho scoperto che la PES ragazzi non non è cioè diciamo che se tu non accetti nel senso che non è accordo con la bruti che sarebbe la PES no in senso la breccia la breccia diciamo che non non so capire bene ma credo che non non abbia preferito avere un che accordo col PES e per questo ragazzi vogliono sponsorizzare una cosa del genere quindi sono andato su Google strano perché su Google mi piaceva a cercare ora si a questi tempi si cioè tu vai a cercare su Google trovi la madonna cioè trovi tutto e ho trovato il fatto che la VT è in realtà la Brescia la Brescia non è diciamo diciamo no 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 che è questo no ragazzi no no non non di nuovo sta gran caule di no però ragazzi noi non abbiamo più il nostro muro dove minchia l'avete messo quelle persone ci hanno rubato il muro ci hanno rubato ragazzi il muro eh infatti suggerito pure te eh però mi sembra eh infatti con la super lo stiamo gli faccio suddare cioè gli butto la porta verso la porta però ragazzi assicuramente si vuole e ragazzi nooo si ho capito ma ragazzi ma io non l'ho mai fatto sta cosa di colgo c'era la non l'ho mai fatta la super mai fatta ma veramente gli giuro che è così e allora io potrei usare la mia tuta per ridicere ok e la uso e mortacci tua ecco così gli ho uccisi due ecco cioè ne ho uccise due raga ma da solo eh cioè con corvo ne ho uccise due per dire la madonna cioè è veramente una bestia mica è debole no 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 che ho fatto no no di nuovo super no raga persa lo sapevo eh io sono stato stupido forse era meglio lanciato un'altra parte che passarlo a lui che ho dimenticato che hanno levato le barriere queste cose no i muri vabbè ragazzi la Brescia non è non è a che fare con la PS e quindi la PS non ha voluto mmm lasciare non volevano diciamo un po' sponsorizzare la loro il loro logo della Brescia quindi proprio tutto quanto quello che ci stava se non i giocatori hanno messo i giocatori ma tranne la squadra infatti hanno cambiato il nome della Brescia infatti ora si chiama Brutii e anche il anche il anche il logo cioè la il logo pure è cambiato non è più quello di Leone ma ci sta una BR U infatti come vedete c'era una B al sopra poi c'era una R a sinistra e poi una se mi ricordo una U a destra quindi ragazzi c'era un po' di cose cioè veramente pazzesco e quindi ragazzi niente questo era un po' tutto cioè non è che si era cambiato un gran che ma vabbè era questo quella era sempre la Brescia quindi ragazzi la Brescia non era spombata ah ecco tic ed è grandio infatti lo sapevo che era tic quello è ok ora io vado ad aprirmi questo perché ragazzi ma questa è una cassa normale dai questa è una cassa della madonna oh e di chi è Poggio? ma va bene poi ragazzi dopo tanto tempo che ci ho cominciato a giocarci cioè datemi un brawler nuovo e dai più che darmi gadget e altro datemi i cosi datemi i brawler perché ragazzi ce ne sono no oh attenzione che è oh ah no sempre lo stesso ce ne sono quelle di nuove avevo dimenticato ok ora devo bloccare lui questo Iris 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 io lo puoi chiamare Iris ed è bellissimo la sua immagine è bellissima cioè il suo aspetto è veramente fico e questo è un bottino è una bestia cioè te spacca eh questo abbastanza poi è pure cromatico vabbè poi questo per dire che ragazzi questo cioè questo brawler ragazzi è una bestia vale veramente il cioè il cromatico ne vale un sacco questo brawler è una bestia lo merita veramente ragazzi quindi questo era il video di oggi noi ci vediamo al prossimo video non c'è niente ciao ciao e ragazzi una cosa ma che cacchio è boh che minchia era boh ragazzi boh però le missioni sono cambiate no cambiano da 57 minuti quindi ragazzi a voglia anche questo allora missioni stagionali da fare sono 1 quella 24 cioè sconfice 24 nemici con notara che ora sono 22 vabbè ragazzi ciao ciao